ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video come potete notare sto di nuovo da sola e si se vedete questo disastro sul letto perché sto sistemando alcune cosine perché siamo appena rientrati dalle vacanze sono state delle belle vacanze anche il mio fidanzato purtroppo è dovuto ripartire però ci rivedremo presto e quindi siamo tornati alla solita vita diciamo così allora per quanto riguarda me io posso fare un video parlando di me perché lui voleva in realtà fare l'ultimo video però non abbiamo fatto in tempo perché un sacco di cose sono successe stanchi dal viaggio perché in realtà lui si è fermato anche a chieti però eravamo stanchissimi quindi non ce l'abbiamo fatta per quanto riguarda me la cosa che ho preferito di queste vacanze non saprei proprio dirla perché devo dire che queste vacanze sono state cioè me le porto sempre nel cuore perché non immaginavo ecco che avrei passato delle belle vacanze questo grazie a lui poi quando lui tornerà o magari sarò io ad andare da lui vedremo di fare un video in cui lui vi dirà la cosa che ha preferito delle vacanze adesso vi racconto una cosa che mi è successa proprio due secondi fa se mi notate cioè se notate un po che sto così tutta sudata perché sono uscita con questo caldo a foso sono andata in giro a portare fuori il cane adesso vi racconto perché questa cosa magari può anche sembrare nulla però per me no perché comunque a torre bruna notando ecco torre bruna come come diciamo un ambiente familiare tornando a chiedi un pochettino io noto di più la differenza ecco che magari questa cosa se succedeva tipo tra qualche mese magari non la notavo praticamente io mi preparo porto fuori il cane chiaramente so per legge che per legge bisogna avere un sacchetto non ha importanza che sia un sacchetto comprato apposta per per animali o un sacchetto dove ci vai a fare la spesa l'importante che sia un sacchetto per raccogliere i bisogni che il cane fa che poi tra parentesi mio cane non li fa mai quando esce cioè nel senso li fa quando stiamo a casa però fuori fuori perché noi abbiamo una casa enorme un terrazzo ci abbiamo tutto attrezzato per poter avere anche il cane però io comunque per sicurezza ho portato questo sacchetto l'ho messo dentro la mia borsa perché non mi andava di portare tutto a mano praticamente siccome il mio cane se voi non lo conoscete vi dico come è fatto questo cane è un cane molto affettuoso cioè lui anzi lei perché è una lei appena vede una persona va che li deve fare le feste giustamente non tutti sono sono uguali cioè a chi piace essere riempito che ne so di peli di bava e che più ne più ne metta e c'è invece chi lo odia o c'è chi addirittura al terrore dei cani perché non siamo tutti uguali allora io cosa ho fatto sono uscita presto proprio per evitare le persone come stavo percorrendo la strada verso come verso dove abito dove vivo diciamo così proprio la via dove vivo ho visto una signora non vi dico il nome per due motivi il primo perché non lo conosco il suo nome quindi non posso mai dirvelo il secondo perché anche se conoscesse il suo nome non potrei comunque dirvelo perché è contro legge fatto sta che questa signora era una bionda capelli corti occhiali aveva un vestito che sembrava una camicia da notte e scarpe aperte era scesa per gettare la spazzatura io che ho visto questa signora faccia il mio cane attraversiamo la strada proprio per non incrociare questa signora perché sapendo come fatto il mio cane sicuramente sarebbe andato addosso e quindi io non ho 23 mila euro per ripagare la gente diciamo così dopo che io passo lei stava all'altro lato della strada io passo dritta lei doveva comunque attraversare per gettare la spazzatura però quando aveva attraversato io già stavo andando verso su quindi non ci siamo proprio ingrociate e lei mi fa ma ce l'hai le cose per raccogliere i bisogni del cane e io ho risposto molto educatamente pur se avrei voluto dire non signora non sono affari suoi perché io a lei non l'ho mai vista però io siccome sono una ragazza molto educata ho detto sì 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 ce l'ho e lei mi fa e pure l'acqua veramente l'acqua no perché io non sapevo che ci volesse l'acqua e lei mi fa e stai attenta perché se no sono 500 euro di multa allora fermo restando che questa signora ha detto tutte cose giuste però giustamente un appello lo vorrei fare premetto che questa signora essendo una molto anziana sicuramente non avrà tempo per vedere questo video e anche se lo vedesse sicuramente non capirebbe che mi sto riferendo a lei o meno perché perché prima di tutto magari si sarà già dimenticata di questo episodio però io dico soltanto una cosa che giustamente io non mi fermo non vado a fermare ogni persona che porti il loro cane e dire ce l'avete o no il sacco perché se non ce l'avete 500 euro di multa perché io lo so le leggi infatti il mio sacco ce l'avevo in borsa che tra l'altro non l'ho neanche usato perché non l'ho usato ma è semplice perché il mio cane non ha fatto nulla solo pipì e basta premetto questo giustamente dico soltanto una cosa che siamo tornati a chieti e chietini la maggior parte che io ho conosciuto sono tutti così cioè loro vanno cercando il pelo nell'uovo per darti addosso per poterti criticare e io voglio dire soltanto una cosa che la mia mamma nonostante la mia età lei pure si è arrabbiata perché dice giustamente questa signora c'ha ragione non è che ha torto però scusa giustamente a lei che cosa le importa che cosa gliene frega se tu c'hai o no il sacco cosa gliene frega se tu come porti il cane ma che una è una tua parente una tua amica la tua zia no quindi non li deve importare niente e questo ragazzi era il mio rientro a chieti quindi ho avuto un bel buon pomeriggio da questa cara signora di chieti e a presto ragazzi